buongiorno da obiettivo news oggi 21 febbraio e san pierre damiani in questa giornata si celebrano i professionisti che guidano i turisti alla scoperta di nuove destinazioni e che condividono la loro conoscenza e passione per la storia l'arte e la cultura la giornata internazionale della guida turistica è stata creata con l'obiettivo di riconoscere e celebrare contributo delle guide turistiche nel settore del turismo questa giornata mondiale è stata istituita per la prima volta nel 1990 dall'associazione mondiale delle guide turistiche e dell'unione internazionale delle guide turistiche da allora è diventato un'importante occasione per evidenziare l'importanza del ruolo delle guide e promuovere il turismo culturale sostenibile in tutto il mondo oggi è anche la giornata nazionale del vinci sgrassi una rustica saporita pasta al forno condita con un ragù fatto con carne miste e della giornata nazionale della sticky bun gustata soprattutto per la prima colazione una sorta di girella dolce aromatizzata alla cannella e coperta di caramello di lontane origini tedesche e tipica della città di filadelfia tra i nati oggi annoveriamo tiziano ferro 1980 e caterina balivo 1980 dagli scomparsi ricordiamo invece marco mix 1965